Tra gli ultimi atti della giunta comunale di Teramo, azzerata qualche giorno fa dal sindaco Gianguido D'Alberto, c'è la delibera tanto attesa dagli studenti, soprattutto universitari, che raddoppia le linee urbane 6 e 7 durante gli orari di punta. Il Comune spenderà così un'ulteriore somma di 23 mila euro nel 2020 per migliorare il collegamento tra Teramo, città e Colleparco, sede dell'Ateneo Teramano. È difficile pronosticare se il provvedimento sarà sufficiente a risolvere definitivamente le problematiche del tratto in questione, ma sicuramente la volontà di investire sul trasporto pubblico e sugli studenti ha fatto esultare l'Unione Universitaria Studentesca Teramana, che recentemente era scesa in piazza con una protesta eclatante. Un confronto duro con l'ex assessore Stefania Di Padova, che ha portato all'introduzione di otto corse bis rispetto a quelle già presenti sulle linee 6 e 7. Era importante dare un segnale forte alle istituzioni e alla città, dichiara Denis Di Gennaro, coordinatore Udu Teramo. Da anni denunciavamo l'indecorosa situazione che si trova a vivere chi deve compiere il tratto Teramo-Centro-Università. Inaccettabile per chi deve fare dell'università il proprio valore aggiunto. Quella di oggi, conclude Di Gennaro, è la vittoria non solo dell'Udu, ma di ogni studente dell'Unite. E mentre a Teramo l'Udu ha raggiunto un risultato soddisfacente, arriva invece una nota dolente da parte della consulta provinciale degli studenti. Il tavolo da loro convocato per discutere il problema del servizio di trasporto pubblico nei poli scolastici di Roseto e Atri e che coinvolge i comuni di Mociano Sant'Angelo, Pineto, Albadriatico e Silvi, è stato disertato dalla TUA SPA, Società Unica Abruzzese di Trasporto. L'aggiunta esecutiva, in accordo con i rappresentanti delle scuole coinvolte, annuncia che in caso di ulteriore disinteresse da parte di TUA sarà pronta a mobilitarsi per trovare le giuste soluzioni. Grazie a tutti.